Continuiamo il nostro progetto con La Ilda, un'opera in quattro atti di Giuseppe Lettini, sull'impatto di Antonio di Sansoni, basata sul giudice originale di Raiet. Di Smelpa Scetti di Vede Egitto, commissionò un immo a Verdi per celebrare l'apertura del canale di Suez, offrendo un compenso di 80.000 pranzi. Ma Verdi rifiutò, dicendo che non scriveva un consiglio a l'occasione. Invece, quando Vede di Vida comporre un'opera con inaugurazione del nuovo trattamento di Italia, non accettò. La prima dell'opera fu ritardata a causa della guerra pranzo-prussiana, dato che costruisce le scene a Parigi sotto assegno. Il teatro del treno si maturò invece col Vigoletto, quando finalmente la prima dell'Aida è del luogo, un'opera ha detto una loro successa, per oggi continua ad essere una delle opere chimiche più famose. e che la prima della dell'Aida è del luogo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.